Centri medico-fisioterapici Salute OK. Da 20 anni leader nell'ossigeno-zonoterapia in associazione a tecniche fisioterapiche d'avanguardia. Fisioterapia, ossigeno-zonoterapia, riabilitazione estetica, piani terapeutici personalizzati. Presente con numerosi centri in Italia, Salute OK opera con equipe specializzate e protocolli esclusivi testati dal Centro Studi Ricerca e Sviluppo. Una storia di successo che ha portato il suo fondatore, professor Dario Apuzzo, ad investire in un ambizioso progetto di franchising. Per informazioni chiama il numero verde 800 199 755 o visita il sito www.saluteok.it Salute OK. Professionisti. A servizio della tua salute. Grazie a tutti. Buonasera e ben trovati al terzo ciclo di Salute OK. Medicina e benessere. Una trasmissione a cura del professor Dario Apuzzo, al quale dole benvenuto. Buonasera. Grazie, buonasera. Saluto anche la nostra ospite, ovvero la paziente del professor Apuzzo, Laura Gorla. Buonasera e benvenuta. Buonasera, grazie. La nostra trasmissione ha riscosso davvero grande successo da parte dei nostri telespettatori, un grande interesse. Come sapete parliamo di ossigeno, ozonoterapia. L'ozono ha delle proprietà benefiche sul nostro organismo, ne ha molteplici, ne cito alcune, un potente antinfiammatorio, un battericida, un disinfettante, un immunomodulatore. E quindi può essere utilizzato per la cura di diverse patologie. Oggi però parleremo del dolore alla colonna cervicale e vertigini. Sappiamo che con l'arrivo dell'autunno, dell'inverno, aumenta l'umidità e quindi aumenta anche purtroppo la comparsa di disturbi di dolore alle ossa, alle articolazioni e ai muscoli. Tra i disturbi più comuni c'è il dolore cervicale, un problema che può colpire uomini e donne a qualsiasi età. Cercheremo di comprendere quelle che sono le cause e di trovare i modi più efficaci per intervenire con una precisa diagnosi e terapia. Dunque, professora Puzzo, quali sono le cause legate al dolore più comunemente conosciuto come cervicale? Le cause sono molteplici. Abbiamo la possibilità di purtroppo soffrire di questa cervicale già sul posto di lavoro, al domicilio, durante l'attività fisica. Può essere anche un dolore che ci accompagna nel corso della giornata. Le cause possono essere dovute a patologie importanti o meno importanti. alterazioni posturali, ad esempio, varrebbe da inserirle tra quelle meno importanti, ma più che altro perché sono in un certo senso recuperabili. Non perché la sintomatologia sia meno importante, ma la causa è più gestibile. E spesso, fortunatamente, sono anche quelle più frequenti, questo tipo di cause. Ovviamente, altre cause più importanti sono rappresentate dall'ernia del disco, dalle discopatie in generale, dai processi infettivi a livello della colonna cervicale, dall'artrosi, quindi sono una serie di patologie, diciamo, e via via meno frequenti, fortunatamente, per cui ci troviamo a combattere essenzialmente con problemi di artrosi, discopatie e alterazioni della postura. Quindi, fondamentalmente, laddove c'è un problema al collo e al capo, poi vedremo che ci sono vari tipi di cervicalgia, si deve andare ad analizzare intanto il tipo di postura che ha il paziente. Ma non solo la postura che egli assume in stazione retta o in stazione assisa, cioè, va a dire seduto, ma anche nel sonno, durante il sonno e durante l'attività lavorativa. Spesso è proprio il posto di lavoro la sede più importante, dove praticamente noi ripetutamente compiamo certi gesti e assumiamo certe posizioni viziate che alla lunga ci provocano dolore e infiammazione. E dove trascorriamo la maggior parte del nostro tempo. Esatto. Professora Puzzo, quali sono dunque i sintomi che distinguono la cervicalgia? Allora, la cervicalgia, come dicevamo, può manifestarsi o in maniera isolata, quindi con un dolore alla cervicale, quindi al collo, che è un dolore che può, in un certo senso, estendersi sia verso la nuca e sia verso le spalle, sul trapezio. Poi possiamo avere la cosiddetta sindrome cervicocefalica, dove si associano a dei disturbi della cervicale anche a un altro tipo di disturbi, che sono rappresentati per esempio dalla nausea, da un senso di spossatezza, da vertigini, da acufeni, cioè praticamente sono dei rumori che noi avvertiamo nelle orecchie dei suoni. E molto spesso questo tipo di sintomatologia si verifica perché il dolore e quindi la conseguente contrattura muscolare che abbiamo a livello dei muscoli cervico-nucali può andare a irritare determinate strutture nervose, come ad esempio il nervo vago, le quali possono essere responsabili di questa sintomatologia. Oppure possono ridurre l'afflusso di sangue all'organo, ad esempio, dell'equilibrio e quindi in questo caso scatenare delle crisi vertiginose. Poi possiamo avere anche la cosiddetta sindrome cervico-brachiale, che invece interessa non tanto il capo, quanto piuttosto le braccia. E in questo caso abbiamo una irradiazione del dolore, come dicevamo prima, può irradiarsi sul trapezio, sulle spalle, ma in alcuni casi può irradiarsi lungo tutto il decorso del braccio fino ad arrivare alla mano e alle dita della mano e dare sensazioni di vario tipo. Possiamo avere un dolore trafittivo o un dolore urente, cioè bruciante, oppure addirittura delle parestesie. Quindi le parestesie sarebbero delle alterazioni della sensibilità, nel senso di una ipoestesia, cioè una ridotta sensibilità, o al contrario una iperestesia, quindi un fastidio solo al contatto della parte, oppure formicolio, per esempio alle dita, quindi addormentamento. Ci sono tutta una serie di un corteo sintomatologico che generalmente è determinato da una sofferenza nervosa periferica a monte. Periferica significa che è praticamente il nervo che fuoriesce dal midollo spinale, quindi va a decorre lungo l'arto superiore, ad essere irritato, infiammato, da che cosa? Ad esempio da una sporgenza del disco intervertebrale, sporgenza che può essere definita, a seconda del grado di gravità, come bulging, come protrusione, come ernia contenuta o non contenuta dall'anello fibroso che circonda il disco intervertebrale, fino ad avere addirittura l'ernia espulsa o l'ernia migrata. Ma può anche essere infiammato da strutture osse, come i cosiddetti osteofiti, che sono praticamente delle sporgenze di osso che si vengono a formare a causa di un'artrosi molto evidente. Addirittura possono arrivare a fondere due vertebre, si formano i cosiddetti ponti intervertebrali, dove queste sporgenze osse possono congiungersi con la vertebra soprastante o sottostante, provocando non solo dolore e non solo irritazione dei nervi, ma anche rigidità del collo. Ecco, tutti questi sintomi che lei ha elencato credo che purtroppo li conosca molto bene la signora Laura. Signora Laura, lei mi diceva che da ben 24 anni soffriva di questa patologia. Ci racconta un po' la sua esperienza. Allora, io ho incominciato appunto 24 anni fa il solito iter che probabilmente in tanti fanno, passi dal fisiatra al neurologo, riflessologia plantare, shatsu, io le ho provate tutte. Lei che sintomi aveva? Io avevo nausea, mal di testa, tanti dolori alle spalle e vertigini. La cosa più brutta, le vertigini. E guardi, praticamente mai nessuno le vertigini me le ha tirate via. Quindi davvero una situazione molto invalidante. Lei mi diceva che appunto non guidava nemmeno più l'automobile. No, negli ultimi otto mesi non guidavo più. No, no, no. Poi vedendo Telecolor ho conosciuto il professor Rapuzzo e ho voluto provare. Quindi facciamo un passo indietro. Lei si è rivolta ad altri professionisti. Sì, sì. Ha utilizzato altre tecniche per cercare appunto di guarire, di migliorare, ma la situazione rimaneva invariata. No, no, no. Io non sono mai stata bene. Mai. Che cosa ha fatto? Io ho fatto riflessologia plantare, sciazzo, ho provato l'osteopata. Terapia farmacologica anche molto. Sì, tanto, tantissimo. Per quelle sempre, mi hanno accompagnato in tutti i 24 anni, le terapie farmacologiche. Non le ho mai smesse. Ma poi è andata anche chiaramente da medici specialisti del settore, quindi otorino, laringoiatra, ortopedici, fisiatri. Sì, sì, sì. Insomma un iter molto lungo. Quando si è presentata la situazione era impegnativa, perché ci si trova di fronte a una paziente che ha un disturbo ormai cronico da 24 anni. è un disturbo anche, diciamo, che inficiava la sua qualità di vita, abbastanza invalidante, al punto che alla fine non guidava neanche più. Per cui sostanzialmente era una bella scommessa, un paziente del genere. Però devo dire che noi poi abbiamo fatto una riflessione, nel senso che abbiamo visto che la signora aveva delle discopatie cervicali e poiché spesso questo tipo di problema può scatenare questo corteo sintomatologico, io ho, diciamo, pensato di trattarla proprio per questo tipo di problema, quindi delle discopatie cervicali. E unitamente abbiamo fatto anche delle piccole infiltrazioni, sempre di ossigeno zono, lungo, diciamo, la lungola cervicale, fino nella parte più alta suboccipitale. Adesso, se vuole raccontare, diciamo, com'è andata, no? Innanzitutto precisiamo che appunto è venuta a conoscenza del professor Rapuzzo, grazie anche alle nostre trasmissioni, grazie a Telecolor, e quindi l'ha contattato. E da lì è iniziato, appunto, questa sua esperienza positiva. Sì, sì, positivissima. Ce la vuole raccontare, ce ne parli un po'. Quindi ha contattato il professor Rapuzzo, avete iniziato a fare queste terapie. Sì, io sono arrivata dal professor Rapuzzo, come ho detto, proprio stavo malissimo. Dopo la terza seduta, io piano piano ho incominciato a stare meglio. Ho preso anche lo zoacqua e va benissimo, per altri problemi anche. E adesso sto bene, io ho finito la mia terapia, adesso faremo il mantenimento e sto bene. Professore, una paziente che presentava una sintomatologia molto complessa, molto ampia, oltretutto che durava da parecchio tempo. Sì, diciamo che noi abbiamo visto che dopo le prime tre sedute, incredibilmente, incominciava a migliorare. Normalmente chiediamo sempre alla paziente se questo tipo di miglioramento si era mai verificato con altre terapie, seppur temporaneo. In realtà mi pare di ricordare che lei mi avesse detto che non era mai migliorata, no? No, no, no. Neanche minimamente, inizia. No, così no. Ecco, quindi diciamo questo ci fece ben sperare. Continuiamo ad andare avanti con la terapia, per cui poi dopo quanto lei ha cominciato a stare decisamente meglio. Decisamente meglio dopo la quinta seduta. Quindi veramente parliamo di due settimane e mezzo di trattamento, perché si tratta di sedute bisettimanali. Quindi diciamo che veramente io, infatti l'ho pregata di venire proprio per raccontare la sua storia, perché è veramente molto importante. E il trattamento farmacologico è stato sospeso? Sì, io normalmente, adesso non ricordo, ma penso, le avrò detto sicuramente di interrompere. Sì, sì. Perché io normalmente faccio così, già dalla prima seduta faccio interrompere quello che si può interrompere, quello che non si può interrompere lo faccio scalare, ma comunque incominciamo un washout della terapia farmacologica subito. Per cui addirittura c'è stato il miglioramento nonostante la riduzione della terapia farmacologica. Quindi laddove praticamente altre terapie hanno fallito, diciamo, l'ossigeno zona è stata veramente risolutiva. Adesso tra l'altro credo che siamo in fase di mantenimento, abbiamo fatto una tozzina di sedute, mi pare, più o meno. Sì, poi le sedute vengono man mano e allungate, dilazionate nel tempo. Nel tempo, quindi già adesso abbiamo fatto, mi pare, una quindicina di giorni di sospensione e la signora continua a stare bene. Diciamo, quindi da quando abbiamo iniziato il trattamento saranno passati un paio di mesi. Due mesi. Ho iniziato all'inizio di settembre. Per cui sembrerebbe appunto proprio un miglioramento stabile, duraturo. Certo, un grande successo. Ha ripreso poi a guidare l'automobile? Sì, sì, sì. Non ha più le vertigini? Assolutamente non ho più le vertigini. Io non ho più avuto una vertigine. Sto benissimo, proprio bene. I dolori alle spalle, al collo. Non ho più niente. Che poi, oltretutto, professore, in questo periodo l'autunno, il cambio della stagione aumenta. Si fa sentire, certo. Poi la signora ovviamente si è invaghita dell'ozono, quindi ha preso la nostra ozoacqua. E che, inviterei a dire anche questo, probabilmente con lei veramente l'ozono ha dei risultati eccellenti. Perché ci racconti un attimo che cosa ha notato assumendola l'acqua iperozonizzata. Sì, io ho dovuto ridurre le pastiglie per la pressione, il dosaggio delle pastiglie per la pressione. Perché si è abbassata. Però questa è la cosa importante qual è? Che lei non aveva una pressione ballerina. No, no, no. Cioè, era stabile da anni questo tipo di... Sì, sì, sì. Quindi il suo merito di base anche si è un po'... Anzi, diciamo che negli ultimi periodi ho dovuto alzarla, alzarla la terapia, sì. Quindi possiamo attribuire questi benefici anche appunto all'acqua. Beh, l'acqua comunque, l'acqua iperozonizzata probabilmente raggiunge questo tipo di effetto attraverso un aumento della diuresi. Perché migliorando la, diciamo, la circolazione, l'apparato gastrointestinale. Infatti la signora aveva anche disturbi... Stipsi. Stipsi. Che vengono risolti con questo tipo di applicazione. Perché in pratica questa acqua iperozonizzata viene bevuta con le dosi giuste, perché non bisogna accedere, però regola la flora batterica intestinale e quindi risolve problemi di stipsi, di alitosi, di digestione, di colite, migliora la diuresi e in questo caso ha migliorato anche la pressione. Insomma, signora Laura, il professor Appuzzo l'ha fatta rinascere. Sì, direi proprio di sì. Possiamo dire di sì. Bene, proseguiamo tra poco, ora una breve pausa. Ossigena la tua bellezza con i prodotti Salute OK. Prodotti esclusivi, nati dall'esperienza medico-scientifica dei centri Salute OK. La loro formula base di ossigeno ozono si prende cura della tua pelle in modo naturale e delicato. Prova le proprietà dell'ossigeno ozono, riattivazione della circolazione, ossigenazione dei tessuti, rigenerazione cellulare. Numerosi prodotti a disposizione del tuo benessere. Visita il sito www.saluteok.it Bene, siamo rientrati in studio, proseguiamo. Professora Appuzzo, dunque, a chi dobbiamo rivolgerci per una diagnosi e quali tipi di cure vengono attuate? Allora, nel caso di un dolore alla colonna cervicale, che resiste per qualche giorno, il consiglio è sempre quello di rivolgersi a un fisiatra. Perché il fisiatra? Perché il fisiatra fa una valutazione generale e quindi, come dicevo prima, parte da una valutazione della postura e, diciamo, ovviamente, da un esame clinico della colonna cervicale ed eventualmente chiederà a lui degli esami strumentali che ci possono essere utili. Quindi, se dovesse immaginare un problema, per esempio, di scale, chiederà una risonanza magnetica. Viceversa, se dovesse sospettare magari un problema di soltanto una lieve artrosi, magari anche un RX potrebbe essere sufficiente. Ma chiaramente poi il fisiatra ha una mente aperta per cui fa delle valutazioni che possono comprendere tante altre cause. Addirittura la malocclusione dei denti o una situazione più sistemica, perché non dimentichiamoci che a volte i dolori alla cervicale o alla testa possono essere espressione di patologie sistemiche, cioè che interessano l'organismo. Voglio dire, anche un problema ormonale potrebbe provocare questo tipo di disturbi. Sì. Problemi di tiroide, un problema anche di astenia, quindi, non so, anemie o patologie neurologiche. O, più banalmente, uno stress, una condizione di ansia, per cui parliamo anche di cefalee vasomotorie o cefalea muscolotensiva. Questo perché? Per far capire che ci sono delle correlazioni importanti tra la muscolatura, diciamo, ocipitale o comunque cervico-nucale e l'intera testa, per cui si possono avere anche questo tipo di disturbi agli occhi, disturbi visivi. Ecco perché a volte sembra appunto quasi un miracolo, no, però se uno indovina la terapia giusta dopo aver indovinato la diagnosi, chiaro, si possono avere dei risultati che veramente cambiano la vita di una persona. Certo. Insomma, la signora Gorla è un esempio lampante di come una terapia, poi, insomma, non è che abbiamo fatto chissà che cosa, abbiamo individuato la diagnosi e la terapia. E soprattutto, professore, dobbiamo dire che non ha controindicazioni, che è fondamentale. Non ha controindicazioni, questo è molto importante. Le controindicazioni praticamente sono semplicemente rappresentate dal medico che non lo sa praticare. Quello è controindicato. Quindi è molto importante rivolgersi a qualcuno che sia pratico. Perché dico questo? Perché non è una terapia come tutte le altre. L'ossigenozono è un gas, è a base quindi di ossigeno, e quindi necessita di una formazione particolare per essere applicato. Ecco perché noi facciamo anche dei corsi proprio per medici a livello universitario. Adesso a dicembre parte un corso di alta formazione che teniamo alla Università Sapienza di Roma. Per cui se c'è qualche medico interessato a questo tipo di terapia, sappiate che alla Sapienza c'è un corso di alta formazione che partirà nel mese di dicembre e durerà quattro mesi. Quindi è molto importante anche da un punto di vista proprio di avere in mano un documento universitario. Sì, perché quando si dice non ha controindicazioni uno può pensare che chiunque potrebbe praticarlo. Non è assolutamente. Così ci vuole una precisa professionalità e specializzazione. Sì, sì, assolutamente. Professore, possiamo dire quindi che una valida terapia prevede quindi una rieducazione del paziente ed un corretto stile di vita, una postura nelle varie attività quotidiane. Quindi è uno stile di vita complessivo che dobbiamo acquisire? Sì, è uno stile di vita, esattamente, perché abbiamo parlato di postura, non abbiamo parlato per esempio anche di alimentazione, anche quella è molto importante, perché tutto rientra appunto in un corretto stile di vita. Un'attività fisica costante sarebbe molto importante. E non va bene quando i pazienti dicono ma io mi muovo tutto il giorno, corro dalla mattina alla sera. Beh, non è la stessa cosa, anzi potrebbe essere un fatto peggiorativo perché magari lo si fa con posture inadeguate. Quindi è molto importante fare un'attività fisica ma che fa bene non soltanto alla colonna cervicale ma anche al corpo, mi viene da dire anche allo spirito, ma questa insomma è ormai cosa nota. Può essere anche la classica passeggiata quotidiana. Sì, diciamo a passo veloce, dovremmo riuscire a fare almeno mille passi al giorno, mille passi insomma è nulla, praticamente è un chilometro, quindi diciamo che almeno un chilometro al giorno dovremmo cercare di farlo. Poi magari per quanto riguarda nella fattispecie la colonna cervicale, se anche noi dedicassimo cinque minuti al giorno a fare degli esercizi a domicilio sarebbe molto utile. Quindi non sono validi le faccende domestiche, signora Laura, purtroppo. Lei comunque ha ripreso la sua attività quotidiana? Sì, sì, sì. A pieno ritmo. A pieno ritmo, cosa che prima non riuscivo più a fare perché anche le faccende domestiche non riuscivo più. Non riuscivo a fare. Devo ringraziare marito e figlia. Quindi la signora Laura è proprio la testimonianza di che cosa può fare l'ossigeno o zonoterapia che però dobbiamo specificarlo. Professore, può curare tante altre patologie? Certo. Lei ha detto prima, giustamente ad inizio trasmissione, ha elencato alcune delle caratteristiche di questo gas, di questa terapia, che sono caratteristiche dovute ad azioni biochimiche e biofisiche che ha questa miscela gassosa. Per cui è chiaro che un prodotto, in questo caso una miscela gassosa, che ha come caratteristiche quella di essere un anti-infiammatorio, un anti-infettivo, quindi antibatterico, antivirale, antiemicetico, un immunomodulante, cioè che regola il sistema immunitario. Che vuol dire regola il sistema immunitario? Che lo modula, cioè se è troppo funzionante, tende a ridurlo, così come se è ipo funzionante tende a stimolarlo. E poi ha un'azione emoreologica, cioè stimola la circolazione, il sangue in generale. Quindi si può facilmente intuire che queste quattro azioni ci consentono di abbracciare un numero enorme di patologie, anti-infiammatorio, anti-dolorifico, anti-infettivo, emoregolatore, quindi emoreologico, immunomodulante, prendiamo moltissime patologie. Anche perché le infiammazioni, mi correga professore se sbaglio, sono un po' l'origine di numerosissime malattie, possiamo dire tutte? Beh sì, non solo l'origine, ma anche la spia, diciamo, la spia, cioè magari noi andiamo a scoprire una patologia per il mezzo, per il tramite dell'infiammazione, cioè l'infiammazione è un campanello d'allarme, ecco perché a volte non è propriamente corretto agire esclusivamente sul dolore, sull'infiammazione, perché noi non facciamo altro che andare a scopire il campanello d'allarme che ci sta dando il nostro organismo e come il discorso della febbre. La febbre, se noi la abbassiamo, diciamo, sì, va bene, però magari non possiamo capire perché è venuta questa febbre, perché è un grido d'allarme dell'organismo. Cioè, un campanello d'allarme. Professora Puzzo, vogliamo infine parlare della nuova linea all'ossigeno e staminali Salute.ok che ha largo consenso appunto tra i suoi pazienti e non solo ed è possibile acquistarli sul vostro sito e-commerce al quale si può accedere attraverso il sito www.saluteok.it senza dimenticare, l'abbiamo già citato, la nostra ozoacqua. Esatto, una parecchia che abbiamo più volte insomma avuto il piacere di presentare. Noi lo portiamo sempre con noi qui perché ci fa compagnia e ormai è diventato uno di noi. Diciamo che, come abbiamo detto prima, questa passione per l'ozonoterapia ci ha portato a creare dei prodotti da tenere con sé al proprio domicilio e da utilizzare quotidianamente. Alcuni sono anche addirittura veramente terapeutici di uso professionale come il Rapid Gel che noi diamo addirittura nel protocollo terapeutico. Il Rapid Gel è praticamente un prodotto che è antinfiammatorio in quanto contiene non solo ossigeno zono ma anche dell'arnica e dell'artiglio del diavolo. Ma questo è un vero prodotto terapeutico. Abbiamo poi altri prodotti diciamo anche terapeutici come l'olio iperozonizzato che veramente regola le alterazioni della cute quindi tutti gli eczemi la foruncolosi, gli eritemi le lesioni psoriasiche dermatitivari dermatitivari idem il discorso dello shampoo con la lozione e che agisce anche sulla caduta perché porta ossigenazione il nostro dentifricio eccezionale che ovviamente lavora come antinfiammatorio sulle gengive è uno sbiancante tutto naturale non contiene alluminio parabeni, paraffine contiene solo ossigeno ozono e ovviamente anche antibatterico contro la placca quindi praticamente un prodotto veramente completo. Favoloso l'ho provato veramente buono veramente buono grazie Bene, siamo giunti al termine ma prima di chiudere questa puntata vi ricordo che Salute OK è il nome dei centri medico-riabilitativi che sono sparsi su tutto il territorio nazionale di cui il padre fondatore appunto è il professor Rapuzzo c'è la possibilità per chi fosse interessato dell'affiliazione Per informazioni sugli argomenti che abbiamo trattato in questa puntata e per il franchising è possibile chiamare il numero che vedete in sovrimpressione 800-199-755 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19 Per rivedere le puntate di Salute OK appunto abbiamo il nostro sito il sito che è www.saluteok.it Bene, non mi resta che ringraziare il professor Rapuzzo per essere stato con noi e la nostra ospite la signora Laura Gorla Buonasera A tutti voi grazie per l'attenzione l'appuntamento e la prossima settimana arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti Purifica il tuo organismo con l'acqua iperozonizzata rinforzando le difese immunitarie e migliorando la funzionalità dell'intestino Scopri prodotti naturali della linea specialistica Salute OK all'ossigeno ozono Dentifricio Shampoo Luzione Gel lenitivo Detergente intimo Olio da massaggio Olio rigenerante per la cute Gel per applicazioni strumentali Prodotti esclusivi per uso privato e professionale Studiati per prendersi cura della persona in modo completo naturale ed efficace Visita il sito ui.saluteok.it